Lele, il numero 7, Emanuele Giallonardo, meglio conosciuto come Lele, che porta 4 le reti a nostro favore, 4 a 1, nel secondo tempo, Miltus Castelfrentano 4, Giovanile Chieti 1, la strigliata di mister 4 a 1, dopo la strigliata di mister Gabriele negli spogliatoi i ragazzi sono rientrati più determinati, è fuori gioco, ecco c'è un altro cambio, si prepara il tunambolo del pallone, il numero 15, Alessandro, di 6 metri, ecco, ecco c'è un cambio nostro, no no, calma ragazzi, ecco si riscalda il nostro Alessandro Ramondi, il numero 15, è posto, è posto, è posto, è posto, è posto.